Avevano avvisato le forze dell'ordine di un abbandono di rifiuti pericolosi, località Col di Cardi vicino alla frazione Monte Rosso di Sassoferrato in provincia di Ancona. Poi, dopo le segnalazioni dei cittadini, erano scattati il sequestro dell'aria e le indagini che hanno portato alla denuncia di un imprenditore. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri forestali del posto insieme ai colleghi di Cartoceto che hanno individuato il responsabile. Si tratta del titolare di una piccola impresa di Mondolfo specializzata nella posa di pavimenti in legno. Il 7 maggio scorso l'uomo avrebbe abbandonato ai margini del bosco di Aia del Piano, famoso in tutta la regione per i suoi tartufi, alcuni sacchi contenenti ritagli di parquet, imballaggi vari e bidoni di colla bicomponente provenienti da un cantiere di Pesaro in cui stava lavorando la sua ditta. Inoltre l'imprenditore, messo alle strette dai forestali, ha ammesso di aver smaltito illecitamente il materiale restante, consegnandolo come fossero semplici rifiuti domestici al servizio di raccolta porta a porta. Ora l'uomo che dovrà anche bonificare l'area rischia l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino a 26.000 euro.